Il grande caldo dell'estate che volge al termine non ha risparmiato neanche le colture. Tra quelle che hanno risentito degli effetti delle alte temperature, il bergamotto, eccellenza del regino. Mi sono recato sul posto e mi sono reso conto dei danni che sono cospicui. Abbiamo chiesto alla città metropolitana, che ha la delega, di quantificare i danni stessi. Non appena avremo questi dati chiederemo al Ministero delle Politiche Agricole di intervenire con cospicue risorse e lo chiederemo anche al Governo, perché vogliamo sostenere questa importante filiera che è un marcatore identitario per la nostra Regione. Insieme ai bergamotteti cercheremo di dare una risposta anche ad altri settori dell'agricoltura calabrese che a seguito del grande caldo sono andati in crisi.